Ciao ragazzi, sono ancora qui al Daming Poo. Questo è un altro ingresso ancora, adesso vi faccio vedere un po' dove vado. Nel frattempo però devo raccontarvi una cosa che è successa qui poco tempo fa. Proprio qualche momento fa è stato. In pratica c'era una star, una ragazza, sapete no? Che stava facendo una foto al ponte e c'erano tutti i fotografi, di tutte le persone attore che appunto la stavano fotografando. Io sinceramente non so chi sia, però è la classica ragazza cinese che è una star e sembra un occidentale. Cioè il viso molto occidentale, gambe molto lunghe. E niente, io passo così come se nulla fosse, no? Tutti interessati io invece passo, senza fregarmene. Anche perché poi penso che non siano tanto belle le star. A me piace di più la gente comune qua, perché le star sembrano delle occidentali tarocche. Invece la gente comune qua apprezzo la loro bellezza asiatica perlomeno. Vabbè, comunque stavo dicendo, io passo. A un certo punto però vedi che l'attenzione si sposta su di me perché sono uno straniero biondo, no? Con gli occhietturi. Vedete, no, adesso questi qua pensavano che fossi un tedesco. Vabbè, ed è bellissimo perché addirittura lei che è una ragazza, no? Una superstar, aveva l'attenzione su di lei e invece io sono passato così senza neanche fregarmene e tra parentesi ho attirato anche un po' di attenzione, solo un po'. Non ha capito quello che dico, ma pazienza. Va bene, volevo solo dirvi questo. Hello! Hello! Vedi, molto simpatici sono. Vabbè. E vabbè, niente, la chiudo qua. Devo salutare tutti. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un mi piace. E se vi interessa seguire la mia vita in Cina, mi raccomando, iscrivetevi al canale. E noi ci vediamo in un prossimo video qui dalla Cina. Ciao ciao!